Buon pomeriggio e benvenuti al Tg Giorno. La presenza di Rondine all'ONU ha avuto riscontri lusinghieri. Al Palazzo di Vetro è intervenuto anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Era presente anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli nella sede delle Nazioni Unite a New York insieme alla delegazione di Rondine, cittadella della pace. Rondine è tornata al Palazzo di Vetro con il suo presidente Franco Vaccari per rinnovare il messaggio di dialogo e di fratellanza che distingue la realtà aretina. Ghinelli ha preso la parola sottolineando l'importanza di supportare le città affinché diventino cantieri di pace, all'interno dei quali la diversità non sia temuta ma considerata un valore. Tutto questo nell'ottica di municipalità che non siano semplici spazi fisici di quotidianità, ma laboratori soprattutto di speranze. L'intervento del primo cittadino di Arezzo è stato seguito da numerosi presenti, in particolare l'alto rappresentante dell'Alleanza delle Civiltà e sottosegretario delle Nazioni Unite, Miguel Angel Moratinos, ai rappresentanti permanenti presso l'ONU d'Italia, Costa Rica e Monaco, partner di Rondine e promotori dell'evento. Sono fermamente convinto, ha detto Ghinelli, che le città abbiano tutte le capacità per aprire la strada verso la pace. La politica adesso pesante replica della Lega alle accuse lanciate nel corso del congresso di Fratelli d'Italia sulla questione legata al futuro della stazione dell'alta velocità, netta la difesa dell'operato di Tiziana Nisini. Volano gli stracci nel centro-destra retino per l'attazione delle polemiche. Se in casa PD nelle ultime ore aveva fatto rumore l'esternazione dell'ex sindaco e deputato Giuseppe Fanfani, polemico nei confronti di Laura Boldrini, suscitando la reazione della neosegretaria del PD Barbara Croci, che è stata costretta a fare la sua prima uscita pubblica contro un esponente del suo partito, nel centro-destra la questione medio-etruria ha fatto esplodere un durissimo contrasto tra Lega e Fratelli d'Italia. In occasione del congresso provinciale di Fratelli d'Italia, pesante è stato l'attacco a Tiziana Nisini, deputata eletta nel centro-destra ed esponente della Lega. A proferire parole durissime era stato prima il consigliere nazionale Francesco Macri, con il neosegretario Francesco Lucacci, che aveva rincarato la dose. E di oggi la nota del carroccio, firmata non solo dal segretario retino Gianfranco Vecchi, ma anche dal segretario regionale Luca Baroncini, che respingono al mittente le critiche fatte. Nisini è al limite della discriminazione mista a diffamazione. Siccome è nata a Pavia, per qualcuno non difende gli interessi di Arezzo, una sorta di ius sanguinis da ridere se non fosse umiliante e offensivo per una donna, che da parlamentare si è battuta sempre in prima figlia per questo territorio, sottolinea la nota. Nisini ha sempre scelto l'opzione rigutino. La nota poi attacca anche sulle accuse rivolte al ministro Salvini, reo di favorire l'Umbria per motivi elettorali, dimenticando che sulla questione sono ben altri pareri che contano, vedi il ruolo delle regioni. Improprio poi è stato l'attacco al sindaco di Cortona per la Lega regionale, che non può avere il peso politico per decidere certe cose. La Lega, ricordano Baroncini e Vecchi, sottolinea che nessuna decisione è stata presa e che contano solo i dati tecnici e che punta tutto su rigutino. Attaccare Tiziane Anisini su questo non ha senso e non favorisce l'interesse del territorio. Con l'80% di partecipazione lo sciopero di medici e infermieri ha battuto ogni aspettativa. Marco De Prizio stila il bilancio, parla di obiettivi, alzare il PIL per la spesa sanitaria almeno al 7,5% e ottenere più rispetto anche dai pazienti. Da eroi assassini il passo, ha detto, è stato breve e poi il nodo pensioni. Dottor De Prizio la troviamo nuovamente a lavoro in sala operatoria, ieri invece ha fatto sciopero come rappresentante nazionale della Cimo Fesmet insieme ad Anao e a Nursing Up. Che cosa è venuto fuori? Siamo contenti perché è la prima volta che i medici riescono a mettersi d'accordo. Il tasso parla di 80-85% di adesione, è una cosa mai successa, perché i medici sono stanchi di assistere a un definanziamento del sistema sanitario pubblico. Ormai siamo arrivati a un livello di PIL che è ridicolo. Tutti i governi, a partire dal governo Amato molti anni fa, hanno tagliato qualche punto decimale di PIL, a prescindere da destra e sinistra e questo non è più sostenibile. Siamo arrivati al 6,1% che è un dato assolutamente non più accettabile. L'altro punto riguarda ovviamente la considerazione che noi abbiamo nel vissuto delle persone. Durante il Covid siamo stati etichettati come eroi, cosa che non siamo assolutamente eroi, facciamo solo il nostro lavoro e adesso siamo degli assassini, vogliamo creare documento alle persone. Noi siamo al lavoro tutti i giorni, cerchiamo di curare le persone, possiamo sbagliare come tutti, ma non abbiamo l'intenzione di nuoscere alle persone, anzi ci occupiamo tutti i giorni della loro salute. Sullo sfondo anche il malcontento per quanto riguarda i tagli pensionistici. Questo era un aspetto che ovviamente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però come ripeto lo sciopero era a tutto fondo per salvaguardare il servizio sanitario. Nuove nomine nella diocesi di Arezzo. È stato lo stesso Vescovo Andrea Migliavacca a comunicarle. Riguardano la parrocchia di Giovi e quella di Santa Firmina. Il nuovo parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta di Giovi è Don Stefano Sereni, sinora parroco della parrocchia di Santa Firmina. Don Stefano inizierà il suo servizio pastorale nella nuova comunità domenica 7 gennaio prossimo. Per la parrocchia di Santa Firmina il Vescovo ha nominato amministratore parrocchiale Don Stefano Scarpelli. Successo per i prodotti delle tenute di Fraternita che dall'olio al vino ai grani e lo zafferano sono esportati dall'Oriente alla California e anche in Vaticano. Prodotti venduti anche nel palazzo di Fraternita oltre che alle tenute con tanto di cestino regalo. Il tempo di bilanci per le tenute di Fraternita è stato un anno da incorniciare, diciamo soprattutto per l'olio ma anche per il vino a quanto mi risulta vero? Siamo molto soddisfatti e teniamo molto a comunicare a tutto Arezzo che l'attività di tenute di Fraternita è positiva, ha un bilancio positivo. Abbiamo avuto un allargamento di prodotti dal vino, dall'olio, dalla frutta, dai grani antichi, dalle farine al miele e a tante altre iniziativa compreso anche l'aceto e anche lo zafferano che è un fiore straordinario e bellissimo. Tutti questi prodotti noi li vendiamo alla città di Arezzo ma li vendiamo anche all'estero. Siamo andati in Vaticano, portiamo il nostro olio, il nostro vino, i nostri grani, la nostra frutta. Quali sono i paesi dove esportate? Noi diciamo che il principale mercato nostro è l'Oriente, abbiamo una forte presenza in Centra Asia, in Kyrgyzstan, poi vendiamo in Giappone, vendiamo in Vietnam, come diceva il nostro lettore e per la prima volta anche in Australia. Oltre che poi abbiamo i mercati europei che vanno dalla Germania al centro Europa e anche in America dove siamo presenti in California. Qui teniamo l'olio extravergine di oliva. Biologio, chi è andato a ruba? È un'annata difficilissima, sfida nella sfida quest'anno sia per l'olio che per il vino. Ci terrei a dire che quest'anno, 2023, un'annata che lavorando col biologico è stata particolarmente impegnativa e per cui anche quest'anno gli esami non finiscono mai ma siamo andati in fondo. Ci avviciniamo a Natale, tempo di mercatini anche di beneficenza. La Galleria Ricasoli del Palazzo della Provincia ospita la mostra di beneficenza dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, che quindi mette in atto una nuova iniziativa per sostenere in particolare il reparto di oncologia. Torna anche quest'anno la mostra di beneficenza organizzata dall'AVO, l'Associazione Volontari e gli ospedalieri, che quest'anno è ospitata in Galleria Ricasoli presso il Palazzo della Provincia. Quali sono gli obiettivi di questa mostra? Allora, gli obiettivi della mostra, in primis c'è l'oncologia. Noi aiutiamo le signore che hanno bisogno di parrucche a acquistarla. Poi abbiamo regalato le poltrone, le carrozzine, altre cose che nei reparti ci chiedono. Quest'anno in visione ci sarebbe di dover arredare una stanza sempre in oncologia. Noi facciamo tutto per l'ospedale. Qual è lo stato di salute al momento dell'AVO? Lo stato di salute dell'AVO dopo la pandemia ne abbiamo risentito tantissimo perché eravamo prima della pandemia 120 e ora a malapena siamo la metà. Presidente, un appello se lo vuole lanciare in favore verso i giovani anche che si avvicinino magari alla vostra attività anche in previsione futura soprattutto. Io ai giovani potrei dire che io l'accetto anche se poi troveranno il lavoro. Però venendo con noi, venendo all'ospedale, qualche cosa lì rimane. Cambieranno carattere perché è più avere che dare. Andiamo adesso in Umbria. La Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione di due eventi che illumineranno il Natale Umbro. Servizio di Simona Santi Laurini. L'accensione sarà congiunta e sarà l'8 dicembre. Stiamo parlando dell'albero di Natale in acqua di Castiglione del Lago e di quello in ceramica di Deruta. L'Umbria punta sulla valorizzazione dei piccoli borghi e sulla qualità della vita. Oggi è una giornata molto importante per Castiglione del Lago, per il lago Trasimeno ma anche per la regione Umbria perché presentare questi nostri eventi natalizi all'interno dei borghi più belli d'Italia e insieme alla sinergia con la città di Deruta credo che sia un momento davvero fondamentale soprattutto perché emergono le realtà del volontariato quindi delle comunità che si mettono e si adoperano per realizzare qualcosa di importante per il proprio territorio. Castiglione del Lago in particolar modo dal 2019 realizza questo albero importantissimo perché è il più grande del mondo, una costruzione davvero ingegneristica, un chilometro di lunghezza ha questa sua attitudine ad essere un albero green che lo contraddistingue per valorizzare questo Natale magico. Quindi Castiglione del Lago vi aspetta dall'8 dicembre al 6 gennaio per vivere insieme l'emozione del Natale ma per riscoprire un territorio, il territorio del Trasimeno, di tutta la nostra Umbria, Cuore Verde d'Italia. A Deruta oltre all'albero in ceramica anche una mostra omaggio a Ugo Tognazzi. Io sono di ceramica e quindi sono quello di Deruta, lui che è più alto e più grande è quello di un chilometro di Castiglione del Lago, poi è luminoso in quanto ormai stella del ballo italiano. Bene, vediamo adesso quali sono gli appuntamenti in programma questa sera sulla nostra emittente. Subito dopo il Tg delle 20 e 30 potrete assistere a Newsline dentro la notizia, dedicato a un concerto per ricordare il Perugino a 500 anni dalla scomparsa. Di seguito 9 e 10, informazione e attualità, oggi dedicato al mondo della Dakar e dei grandi rally marathon. La serata proseguirà poi con Timeline, che oggi ha per ospite l'onorevole Tiziana Nisini, e poi Quattro Vallate, settimanale condotto da Riccardo Ciccarelli. A termine torna l'appuntamento settimanale con Sportivamente, condotto da Andrea Lorentini e Riccardo Buffetti. Concluderà la serata in compagnia di Alessio. Bene, è tutto per questa edizione del nostro Tg Giorno. Grazie quindi della cortese e attenzione, vi lasciamo in compagnia dei nostri programmi. Buon pomeriggio! Grazie a tutti!